Circa 300 tifosi bianco-rossi hanno accolto l'aeroporto di Bari l'imprenditore malese Datò Nordin, sbarcato da un volo proveniente da Roma. Il magnate asiatico si è presentato nella sala a Rivi con una sciarpa bianco-rossa al collo ed è stato salutato dal presidente Gianluca Paparesta e dai cori di incoraggiamento dei tifosi. La sua prima volta a Bari, ha già avuto un'ottima impressione dall'aeroporto, ha visto un aeroporto, una struttura nuova, mi ha chiesto subito quanti visitatori ci sono in Puglia, di solito quanti frequentano questo aeroporto e adesso diamo la possibilità di conoscere un po' la città e domani convocherà una conferenza stampa per illustrare tutti i suoi progetti, il programma che ha e che cerchiamo di illustrare al meglio per fare questo progetto sempre più forte e renderlo sempre più forte. La gente è molto calda, molto affettuosa e quindi lui è contento di essere qui a Bari. L'avvocato Giannarelli è la prima volta in Bari. Sono molto attaccato con l'avvocato che ha dato da Bari. Sente molto l'affetto dei cittadini di Bari ed è questo che lo ha colpito molto. Per ogni altra considerazione Datò, accompagnato dall'avvocato e consulente, grazie a Giannarelli, ha dato appuntamento alla conferenza stampa di questo pomeriggio. In mattinata Nordin è stato ricevuto dal sindaco di Bari Antonio De Caro. Nordin illustrerà in conferenza stampa, ha spiegato Papa Resta, come rendere ancora più forte il nostro progetto per il Bari. L'imprenditore asiatico che ieri sera ha visitato la città ha firmato venerdì scorso un preliminare per l'acquisto del 50% del club guidato da Papa Resta e sabato vedrà al San Nicola la prima partita dei Biancorossi contro il Como.